Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e B1 variante, in carreggiata opposta rallentamenti per lavori tra Sassomarconi e B1 variante, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. In A11 code a tratti per traffico verso il capoluogo tra Pistoia e il Bivio con l'A1. In Fibili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Tra il traffico ferroviario permangono alcuni ritardi a seguito dell'interruzione nelle prime ore del mattino della circolazione tra Firenze e Santa Maria Novella ed Empoli, tutti i treni interessati sui nostri canali social. Buon versetto in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.